Oggi vi parlo di un piccolo trucco Mac che potrebbe interessare soprattutto a chi ha problemi di vista. Fin dall'alba dei tempi in Windows era possibile modificare alcune impostazioni relative al puntatore del mouse, come per esempio anche la dimensione. Ebbene faremo questo, ma lo faremo in Mac OS, in modo tale da regolare la dimensione del puntatore del mouse e renderlo quindi più visibile a chi ha problemi di vista o a chi per esempio utilizza un display molto grande e molto risoluto. Io per esempio spesso non riesco a trovare il puntatore del mouse perché ha un display grande, con una risoluzione molto grande, quindi gli elementi sullo schermo sono piuttosto piccoli. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di TechFanPage. Per modificare e gestire il puntatore del mouse in Mac OS, tutto quello che bisognerà fare sarà avviare le preferenze di sistema del sistema operativo di Apple e selezionare la sezione accessibilità. Si entrerà quindi in una sezione veramente molto potente dell'OS di Cupertino, nella quale dovrete selezionare la voce monitor. Selezionando la voce monitor e non la voce mouse e trackpad, vedrete che a metà finestra sarà presente proprio la possibilità di modificare le impostazioni del cursore del mouse. Ovviamente per ingrandire il puntatore, tutto quello che dovrete fare sarà portare in avanti il controller nella riga proprio relativa alle dimensioni del mouse. Modificando le impostazioni del mouse in quella sezione particolare di Mac OS, vedrete che potete gestire proprio l'utilizzo e la personalizzazione di tantissime funzioni di sistema. È una sezione che in molti non considerano neanche, ma che nasconde tante funzioni molto interessanti. Io sono Dario Caliendo, appuntamento al prossimo video di TechFanPage.